Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Lele King TV quest'oggi spacchetteremo 5 bustine dei calciatori 2016-2017 qui abbiamo il nostro album, mancano pochissime figurine parliamo di una ventina di figurine, sarà difficile trovarle in 5 bustine ma ci proviamo ragazzi e poi ci divertiamo a spacchettare queste bustine me ne sono rimaste un pochettine e poi cercheremo di completare l'album magari facendo l'ordine alla panini iniziamo subito con la prima bustina, apriamo prima quella omaggio troviamo lo scudetto della Roma, della magica, eccolo molto molto bello poi troviamo Medel dell'Inter, eccolo un giocatore cileno troviamo Patrick della Lazio e Toloi dell'Atalanta ma qui c'è un'altra figurina sotto allo scudetto della Roma che non avevo visto che sono tre giocatori del Cesena apriamo il secondo pacchetto e troviamo la maglietta della Roma questa edizione aveva queste figurine delle magliette fatte in finta stoffa alcuni di voi mi hanno chiesto che significa la maglietta stoffata è questa qui ragazzi che adesso in video non rende più di tanto comunque è questa qui poi troviamo tre giocatori del Frosinone eccoli Federico Chiesa della Fiorentina Djuricic della Samp e Marchetti della Lazio andiamo avanti con il terzo pacchetto vediamo cosa esce fuori Babacar della Fiorentina tre giocatori del Lavellino la squadra del Milan Chedira della Juventus e il Lander del Bologna andiamo con il quarto pacchetto e abbiamo i giovani del Sassuolo tre giocatori della Ternara Maggio del Napoli Santon dell'Inter che adesso è alla Roma e Miranda sempre dell'Inter quinta bustina ed anche ultima di questo spacchettamento troviamo Maxi Lopez capelli orrendi di Maxi Lopez poi troviamo tre giocatori del Pisa Buonaventura Barzai della Juventus e Hernanes della Juventus ragazzi adesso sistemo le figurine in ordine numerico e cerchiamo di attaccarne qualcuna ma sarà difficile eccoci qua pronti a iniziare con il cielo mi manca la prima figurina è dell'Atalanta è la numero 6 e se non sbaglio ce l'ho infatti l'Atalanta mi manca solo Gomez qui per finire la squadra poi il Bologna con il numero 41 mi manca anche la 30 la 28 e la 30 la numero 41 ce l'ho poi dobbiamo arrivare a 190 che è la figurina di chiesa e chiesa ce l'abbiamo doppione e anche Babacar altro doppione poi andiamo all'Inter dove abbiamo trovato Miranda eccolo che è doppione Santon altro doppione e Metel altro doppione ma qui ci sta ragazzi perché ve l'ho detto che ormai è difficile trovare oh oh e una l'ho trovata la 257 Barzaghi e vai non ci speravo di mettere neanche una figurina e invece ce l'ho fatta Barzaghi eccolo qui l'abbiamo messo poi Hernanes è doppione e anche Chedira è un altro doppione andiamo avanti della Lazio abbiamo trovato Marchetti e Patrick altro doppione del Mila ce l'abbiamo tutti abbiamo trovato Buonaventura che è doppione poi qui la squadra ce l'abbiamo andiamo al Napoli maggio ce l'ho Palermo non ho trovato nessuna figurina del Pescara anche della Roma qui manca solo Gerson ma non l'ho trovato però ho trovato la maglia ragazzi la maglia mi manca della Roma eccola qui la maglia mi mancava me ne abbiamo messe due non ci posso credere poi lo scudetto ce l'abbiamo doppione della Samp di Uricic ce l'abbiamo dove sta eccolo doppione del Sassuolo abbiamo trovato i giovani e ce l'ho del Torino abbiamo trovato Maxi Lopez che è doppione poi qui c'è tutto il calciomercato che l'abbiamo messo andiamo alla Serie B dove abbiamo trovato del Lavellino la 594 e ce l'abbiamo doppione poi andiamo al Cesena che ce l'abbiamo Frosinone ce l'abbiamo tutte Pisa ce l'abbiamo tutte quindi altro doppione e Ternana dobbiamo andare alla Ternana e anche della Ternana ce l'abbiamo tutte quindi ragazzi abbiamo messo due figurine e non è poco per un album che è quasi completo io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti